Reso conto annuale della Cisla Abruzzo sulla situazione economica del territorio, il 2014 chiude ancora in difficoltà, ma è importante analizzare anche quelli che vengono considerati cautamente segnali positivi. Se da un lato aumenta la disoccupazione con cifre che raggiungono e superano le 40.000 unità, dall'altra, come si dice in gergo, tira il mercato dell'export. Ma in questo caso cambiano i settori trainanti. Scendono i settori dell'edilizia, dell'industria, l'artigianato e il commercio e salgono invece quelli dei trasporti, dei prodotti chimici e degli articoli farmaceutici. Gli unici segnali positivi che vanno assolutamente valorizzati e aiutati è il fatto che l'industria grande e media reagisce positivamente. Nell'industria l'occupazione aumenta di 2.000 unità al terzo trimestre, mai successo, sull'export cresce del 4,4%, la cassa integrazione si riduce di milioni di ore, quindi importantissimo, e in modo particolare 14 settori dell'attività produttiva e su 14 settori 10 danno segnali positivi di recupero, mai successo, vuol dire che il settore produttivo si sta riorganizzando. Un'analisi che non può non far riflettere sulla necessità di compiere doverosi cambiamenti all'interno della macchina organizzativa. Serve un protocollo capace di rendere facile l'export anche alle realtà più piccole. Le esportazioni sono aumentate, che non hanno compensato interamente la crisi precedente, ma comunque c'è un andamento piuttosto significativo intorno al 4,5%, il che vuol dire che stanno recuperando parte del terreno perduto, anche se poi, come tutti sappiamo, le esportazioni si concentrano soprattutto in Abruzzo e nei mezzi di trasporto, per cui è dovuto solo a due o tre grandi imprese fondamentali. Infine una nota riguardante la gestione del governo regionale. Proprio ieri l'annuncio dell'intenzione di potenziare i collegamenti aerei con l'est Europa, quello che risulta più sensibile al mercato abruzzese. Spiega la CISL, serve però ancora più coraggio. La regione sta facendo delle cose buone perché alcune riforme, come quella dei trasporti, come quella dell'attenzione verso le tematiche infrastrutturali, sono importanti. Il problema è che noi arriviamo a questi processi dopo quattro anni di dibattito. Il tempo non è più una variabile indipendente. Cioè la strada delle riforme è una strada culturale che va approfondita, insomma, D'Alfonso deve avere più coraggio. E sul versante delle prospettive occupazionali noi non facciamo promessa, è meglio non farle, la situazione è ancora troppo delicata.